Fare un bilancio del Carnevale di Sciacca 2015? Ci hanno già pensato i numerosi utenti Facebook e Saccensi che nel corso della settimana di Carnevale hanno riempito le nostre bacheche con ogni tipo di commento. Noi di On The Road abbiamo voluto ancora una volta ascoltare la voce di chi invece ha riempito le strade della città proprio nell'ultimo giorno di un Carnevale prolungato fino al venerdì 20 febbraio. Ultimo giorno di Carnevale, un bilancio su questa manifestazione. Secondo te ne valeva la pena, non ne valeva la pena? C'è da dire che nonostante tutto quello che sia successo con i carri, tutto sommato rispetto ai altri anni c'è stato un calo enorme sia di turisti eccetera, solo per sentito dire che gli hotel si sono organizzati in modo più adeguato e molto più rispettoso rispetto a quello che è successo quest'anno. Quindi i cittadini giustamente essendo qua a Sciacca cosa fanno? Riescendono, però c'è stato un calo anche di presenze turistiche. Infatti girando per le strade si erano soltanto saccensi per la maggior parte dei casi. Il Carnevale è sempre sempre Carnevale, è una festa molto bella, coinvolge tutti, grandi e piccoli. Ovviamente ci sono lati positivi e negativi. Speriamo di migliorare la qualità e la quantità dei cali soprattutto. Un bilancio sul Carnevale 2015? Beh, il Carnevale 2015 sicuramente non è eccezionale come determinati anni, però diciamo che i ragazzi ce l'hanno messa tutta. Purtroppo diciamo che le intemperie le hanno fatte da padrone quest'anno, nel senso che la pioggia e il vento hanno distrutto i carri e di conseguenza questo spostamento ha fatto sì che il Carnevale fosse concluso con i gruppi mascherati e col Peppe Nappa. Per fortuna è rimasto quasi integro. Come sta andando questo Carnevale? Per il momento è bene. Un'opinione sulla manifestazione in generale, come è andato? Quest'anno non è stato come gli altri anni. Giuseppe è il capogruppo di uno dei gruppi mascherati di questo Carnevale. Un bilancio, un'opinione su questa edizione? Tutto sommato è un'edizione del Carnevale diciamo ridotta, ma di qualità abbastanza adeguata ai tempi in cui siamo. Perché essendo che la crisi si fa sentire, ognuno cerca di fare quello che può, anche a livello di costi e quant'altro. Il Carnevale di Sciacca forse si sta perdendo, perché quest'anno abbiamo visto poca qualità sui carri. Non vorrei fare la stessa fine che ha fatto, la ceramica, le terme e a questo punto penso che ci mangiamo pure il Carnevale. Dico spostiamo Sciacca e ce lo portiamo a Caltapellotta. Un'opinione sul Carnevale di Sciacca 2015. Si doveva fare o non si doveva fare? Non si doveva fare, assolutamente, perché intanto c'è una crisi enorme, poi quelli che hanno i carristi, i minicarri, ci hanno messo tutta la volontà, ma il tempo non ha permesso di questo continuo di Carnevale su quattro giorni, ma speriamo che il prossimo anno, che va in porto il prossimo Carnevale veramente nei carri, perché si ci mette l'anima, diciamo, nella volontà. Come avete vissuto questo Carnevale? Secondo voi ne valeva la pena o meno? Secondo me sì, ne è valsa la pena, anche perché noi ragazzi ci stiamo divertendo tantissimo. Veramente, forse non è come ce l'aspettavamo tutti, non tanto grande come c'è stato negli altri precedenti, però il sindaco e l'assessore Monti hanno fatto un bel lavoro. Un'opinione su questa edizione del Carnevale di Sciacca? Non è bello come gli altri, ma il Carnevale è sempre Carnevale e Sciacca è sempre un bel Carnevale. Rispetto ad altri Carnevale, Sciacca rimane sempre Sciacca. Lei di dov'è? Io sono di Palermo, ma ho visto tantissimi Carnevali in vita mia. Sciacca rimane sempre il numero uno. Antonio Di Marca, direttore artistico della precedente edizione del Carnevale, quest'anno mascherato, quindi tra la gente, come è andata questa edizione? Guarda Olga, ci sono tanti modi per poter dare un contributo alla nostra festa. Si dice da tempo che il Carnevale di Sciacca, tra i tanti problemi che ha, ha anche quello che molte persone non si vestono più, non si mascherano più. E allora quest'anno, visto che non ho lavorato per organizzare il Carnevale, ho voluto dare il mio piccolo contributo vestendomi. È un modo per contribuire a regalare un momento di allegria a questa manifestazione che soffre qualche piccolo acciacco e che forse ha bisogno di una revisione. Sono qui in compagnia del Cumpari di Tazza. Com'è andato questo Carnevale? Qual è la sua opinione? La problematica è stata la pioggia, ma abbiamo fatto un rimedio a più presto, vanno oggi, che è un buon tempo, domani c'è un brutto tempo, abbiamo deciso di oggi. Questa è la soluzione. Com'è andata, secondo lei, tutta l'edizione del Carnevale? Tutto bene, tutto bene. Abbiamo visto che c'è stata anche l'organizzazione, è andata bene. Una tua opinione sul Carnevale di Sciacca 2015? Il Carnevale quest'anno è stata, secondo me, una manifestazione organizzata proprio sul filo del rasoio. Visto comunque la tempistica molto breve dell'organizzazione e anche il fatto che non si è preso molto in considerazione il tempo che è andato completamente a nostro sfavore. Si doveva tenere più in considerazione i vari aspetti che potessero rendere meglio la partecipazione anche della gente al Carnevale. Sono qui in compagnia del Presidente Provinciale della Croce Rossa. Un bilancio sul Carnevale di Sciacca 2015. Per quanto riguarda la nostra vera e propria assistenza sanitaria, rispetto all'anno scorso abbiamo dovuto intervenire. Il dramma vero è che purtroppo ci sono ancora molti minorenni che bevono. E questo io capisco anche perché anch'io sono stato un ragazzo. È bello divertirsi, però non si deve mai arrivare a sopra il limite perché poi è veramente brutto. Anche perché io da padre sapere che un figlio o una figlia è fuori e arrivare a sentirsi male e portarle in ospedale non è una cosa simpatica. Ultimo giorno del Carnevale. Un bilancio su questa manifestazione del 2015? Guarda, è un bilancio. Un bilancio in un certo senso per noi commercianti nettamente negativo. In un certo senso parlando di commercio si fa un po' di confusione. Più che altro gli esercenti, cioè significa chi vende somministrazioni di alcol o di cibi, diciamo, possono avere magari un riscontro nella festa del Carnevale. Ma chi vende come noi abbigliamento o accessori, vi posso garantire che è una tragedia perché il tempo non ci ha accompagnati. La festa è stata, diciamo, ridotta e quindi ha creato dei problemi. Ha creato dei problemi che a oggi stiamo piangendo ancora. Consigliere Bonomo, un bilancio sul Carnevale di Sciacca 2015? Credo che il livello di quest'anno non sia per niente sufficiente e non sia un'edizione carnelecia-lesca che rispecchi quella che è la tradizione del Carnevale di Sciacca. Un bilancio sul Carnevale di Sciacca 2015? Ma il Carnevale, dopo 115 anni, è stato un po' riciclato perché, a parte i soldi, dicono che ci sono 250 mila euro, però i carri sono pochi, ci sono un po' di gruppi, ma c'è di divertirci perché le persone escono lo stesso. E' inutile che non lo fanno, non lo fanno, ma escono lo stesso. Poi è peccato per l'assessore che lo criticano tutti, ma le persone ci sono. Per ora è preso e non li vediamo, ma le persone ci sono. Lo diamo a fare perché non si deve perdere questa grande festa che i soldi girano da tutte le parti. Complimenti per il look!